Luca Coccolo che è qui pronto con noi al nostro fianco, rappresentante questa sera di una difesa che davvero ha concesso le briciole, quasi nulla se non un sinistro araimo fuori di poco, ma insomma Tozzo di fatto si è rimasto molto tranquillo. Questa è una parziale soddisfazione perché è chiaro che il risultato non vi rende giustizia. Sì, sicuramente siamo contenti di aver concesso poco, però ci tenevamo a vincere anche visto come è andata la partita, quindi c'è un po' di rammarico. Cosa lascia una gara di questo tipo guardando quello che vi aspetta ad ottobre, un tour de force da qui a un mese fino all'altro posticipo con l'Entella, era il primo esame, vi si aspettava dopo una falsa partenza, da dove si riparte? Sì, c'è sicuramente fiducia perché comunque abbiamo fatto una buona prestazione, però sappiamo che dobbiamo vincere le partite perché è importante fare punti. Posso chiedere cosa vi ha detto l'arbitro? Tu eri dentro al campo, avete protestato tantissimo per il primo, ma subito per il secondo episodio, ricostruendo un attimo. Sì, lui si è affidato al guardialine, però poi adesso li hanno ancora rivisti, però mi hanno detto che erano tutte e due buoni, quindi è un po' assurda come cosa, però ormai è andata, quindi dobbiamo guardare avanti. Parliamo prima con Toscano, delle occasioni lasciate, concesse agli avversari, da questo punto di vista forse una delle cose migliori dopo questo primo mese e mezzo è l'aver concesso veramente poco, paradossalmente anche a fermo, due tiri pur avendo sbagliato la partita, no? Sì, abbiamo questo merito, comunque concediamo poco, poi oggi siamo stati bravi a non prendere gol, in altre occasioni abbiamo preso gol anche concedendo poco, dobbiamo ripartire da stasera con questa cattiveria e questa voglia.